Quello che vediamo qua invece è il nuovo lettore Blu-ray BD6900 di Samsung, è uno dei primissimi lettori che è in grado di riprodurre oltre ai dischi tradizionali anche i contenuti in 3D, come possiamo vedere qua ci sono delle persone che stanno guardando immagini in 3D. Il lettore è un lettore decisamente veloce di nuova generazione, è stato anche definito uno dei più veloci lettori in circolazione, il design si abbina decisamente a tutta la nuova gamma di elettroniche Samsung che possiamo vedere sull'altro lato dello stand, quindi con finitura black, vediamo qua tutta la gamma di sinta amplificatore con finitura lucida, sistemi on theater e soundbar anche lì.